Diventa realtà l'apertura del distaccamento di Polizia Municipale in via caduti per servizio nel quartiere Fontanelle a Pescara. L'annuncio questa mattina del sindaco Carlo Masci che con l'assessore alla sicurezza del Chesupizio ed il comandante della Polizia Municipale Danilo Palestini ha spiegato i dettagli del provvedimento che va nella direzione di una maggiore sicurezza come richiesto dai residenti e come spiega il comandante della Municipale. È già iniziato venerdì scorso, per quanto riguarda l'articolazione è un'articolazione che al momento prevede sia nel turno antimeridiano che nel turno pomeridiano in una soddivisione settimanale un presidio di sia agenti in divisa che agenti in borghese che coadivano per quelli che sono gli interventi più urgenti e particolari i colleghi che sono sul territorio o meglio in questo momento nella sede dell'associazione di via caduti per servizio per raccogliere le istanze dei cittadini oppure per stare vicino a loro e fargli sentire il più possibile la vicinanza dell'organo di governo attraverso la Polizia Municipale al territorio. Fra i promotori dell'apertura del presidio dei vigili urbani il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli che chiede di estendere il servizio anche negli altri quartieri periferici della città. In campagna elettorale quando ho fatto il tour delle periferie insieme al sindaco avrei detto e ho detto ai cittadini che non mi sarei tagliato la faccia questa volta rispetto a degli impegni presi in campagna elettorale. Oggi questo punto in realtà però come ho detto in conferenza stampa è una goccia in un mare magnum per cui avanti così bene così ma bisogna ovviamente coprire l'intera l'intera periferia. Questa amministrazione per cui l'Udc è stata determinante affinché vincesse al primo turno ha firmato un programma il programma dice le periferie al centro per cui si sta rispettando egregiamente il programma. E a breve partirà anche un servizio di ascolto fortemente voluto dall'assessore al disagio sociale e che coinvolgerà i quartieri periferici di Pescara. Abbiamo elaborato questo progetto dove ci saranno due punti di ascolto proprio per aiutare queste persone disagiate uno lo metteremo come ufficio qui in comune e uno sul territorio.